Oggi il Carnaro è in fase di autogestione e ha deciso di entrare in autogestione contro l'edilizia scolastica e non solo, anche contro i mezzi di trasporto e contro la scarsa igiene presente nelle scuole. Questa autogestione è stata organizzata a livello regionale da tutte le scuole e soprattutto della provincia di Brindisi in quanto noi avevamo organizzato già altre due manifestazioni nei mesi di ottobre e di novembre. Non abbiamo ricevuto risposta da nessuno, dalla provincia, dal sindaco. Questa autogestione è stata organizzata per informare gli studenti anche della nostra scuola di quello che sta succedendo con questi enti. Lo svolgimento di questa autogestione andrà a sfociare poi nella manifestazione del 13, nella quale noi rivendicheremo i nostri diritti davanti al sindaco e chiederemo di far cambiare qualcosa per quanto riguarda i problemi relativi all'edilizia scolastica, i trasporti, il comodato d'uso dei libri che comunque diventano sempre più cari e altri problemi che abbiamo riscontrato a livello di studenti. Possiamo vedere a Torino, a Roma, a Milano le varie manifestazioni che stanno facendo gli studenti dove sono tutti compatti. Comunque l'Italia si sta muovendo adesso. Comunque l'Italia si sta organizzando? Il giornale di oggi come si sta organizzando? Praticamente c'è questa intervista qua, questa manifestazione, tra virgolette chiamiamola così, di questa associazione che parla della violenza sulle donne, che è un fatto abbastanza importante qui in Italia e nel mondo, che c'è sempre stato ma nessuno si è mai mosso per poter fare qualcosa o per risolvere questa situazione qui.